Allora Botke, partiamo dal risultato, la cosa più importante, 3-0, una partita che è stata più combattuta magari del risultato finale, ma che abbiamo sempre, diciamo, venuto sotto controllo? Sì, esatto, tre punti molto importanti che portiamo a casa, comunque l'onore non è facile giocare qua, anche la squadra ne ho promessa nel campionato, perciò per noi è molto importante, come ha detto il vittore di 3-0 soprattutto, che spingiamo sempre, alziamo il nostro livello di gioco e credo che siamo sulla strada giusta. Senti, vado a memoria, inizio del primo set, attacco, muro, muro, attacco, muro, i primi 8 punti, 5 erano i tuoi, grande prestazione anche stasera, importante per la squadra, tutto contributo? Importante è sempre la squadra davanti, credo che Simo che è entrato nella panchina ha fatto un'ottima partita, abbiamo di nuovo dimostrato che siamo la squadra di 14 giocatori, ognuno che entra chiedà qualcosa in più per la squadra, perché il campionato è veramente a lungo quest'anno, ce l'abbiamo tanti impegni, perciò, come ho detto prima, c'è ognuno che entra deve dare qualcosa in più per la squadra, per arrivare le vittorie alla fine, che sono cosa più importante nel nostro sport. Ok, grazie Potker. Grazie a te.